Allora ragazzi, sono Alessandro e vi darò qualche consiglio per fare una mossa di calcio Non lo so se la so fare, però vi farò vedere Speriamo che non mi cade il telefono Ragazzi, è un S3 Scusate per la visione, forse Ecco, lo faccio qua Si mantiene assieme Ok ragazzi Va a fanguno Ecco Si dovrebbe mantenere Non posso Allora lo lascio qua Mantiene Ragazzi mantiene Una cosa meravigliosa Allora La bicicletta Aspettate Ecco Ciao ragazzi, non vedete? Eccovi Ora ragazzi Vi farò qualche consiglio Come fare il doppio passo alla bicicletta Non la so fare ancora Vabbè Ciao Ora vi farò vedere Vediamo il pallone Il doppio passo si fa così Prendiamo la palla No così Vabbè Quella è la finta Dove vi farò vedere E poi vi farò vedere anche Un doppio passo Ora Vedi Così Non lo sapete Quella è la finta Ora non mi piace Molto bene Perché Cosimo in ansia Aspettate Aspettate ragazzi Ecco Questo è il doppio passo Ora la bicicletta Ora la bicicletta Aspettate Prima vi farò Un'altra mossa Come vedete Una palla Giusto E facciamo così Quello movimento che ho fatto Vi farò rivedere Questo movimento che ho fatto Si chiama elastico E ora la cosa più importante La bicicletta Ok Ok Guardate Speriamo che Ce la farò fare Allora Prendiamo la palla Una Così E un'altra Con il tacco In pratica Così Vediamo E facciamo Così E ancora Non mi piace Bene Però Vi farò rivedere Perché Nessuno è stato A quello che Allora Ragazzi Andiamo così Ecco Come avete visto Ho fatto Ho fatto la bici Vi farò rivedere Questa volta La porta Così Giusto La farò così Ecco Comunque Mi consiglio Spero che vi siano piaciuti Ora vi farò vedere Un'altra cosa Per esempio Un avversario Davanti Vi vedete Ecco Un avversario Davanti E voi lo potete Potete fare così Guardate Lo state per battere Eh Per esempio Ammondalito No Scusate Ho una partita Per non mangiarla E devi battere tu E devi battere tu Fai questa cosa E vi Non battete Però fate Queste cose Fate le film Io ora Per farlo Per male E vi Fate le film E così Appena fate Un po' di film Così Ragazzi Mi ho detto tutto Allora ragazzi Spero che mi consigli Vi saranno piaciuti Ciao ragazzi Da Alessandro Morrone 39 Chiocciolagli Punto com Ciao